Sono molto contenta di poter condividere con voi l'esperienza che ha la nostra azienda nel mondo del lusso. Come prodotto il tartufo viene riconosciuto in tutto il mondo come prodotto tipico italiano. La nostra azienda distribuisce questo prodotto in tutto il mondo, tutti i continenti e nel mondo dell'uso abbiamo trovato proprio il riscontro adatto a questo tipo di prodotto. Il tartufo è un prodotto di eccellenza, è un regalo che ci fa la natura, infatti noi lo chiamiamo è proprio un capriccio o un treat diciamo della terra che possiamo condividere insieme al mondo del caviale o ai vini di lusso. Il mondo del luxury è proprio trovato un prodotto che può condividere e un dar di più nei diversi alberghi del mondo. Io almeno mi incarico di trovare il punto di incontro con le diverse culture, le diverse gastronomia, Spagna, Portogallo, Germania, Francia, quindi è molto bello riuscire a tradurre quell'eccellenza del prodotto dentro ogni gastronomia diversa, è molto più facile, è un prodotto molto versatile, anche se è un prodotto con un sapore particolare, ma è molto versatile, viene utilizzato da diversi tipi di cucina e questo ci permette avvicinarci ancora di più. Appennino Food è una bandiera della food education di questo tipo di prodotto perché abbiamo il prodotto durante tutto l'anno. Il tartufo non è soltanto l'autunno come era stato collegato in alcun momento, non è soltanto tartufo bianco, è il tartufo estivo, il tartufo melanosporum, bianchetto, quindi cosa diamo ai nostri clienti? Quella conoscenza, dopo loro riescono a gestire questo valore in più che dà questa conoscenza e tradurlo in diversi piatti dal fusion orientale o spagnoli o quello che sia. Nel mercato estraeuropei il tartufo funziona molto bene nella gastronomia perché proprio grazie a che la cucina fusion si è diffusa in tutto il mondo, posso parlare di un'Australia, Asia principalmente, America, da quel punto in più innovativo a qualsiasi a qualsiasi ricetta dei chef.